signora è tutto pronto allora parma cotto ha un profumo appetitoso una bontà che rapisce il prosciutto buono non va incartato ma servito nella vaschetta e solo parma cotto lo fa si ricordi signora la vaschetta parma cotto è una freschezza colta all'istante dalla vaschetta e accattato villa via loren parma cotto